Amici, perché biondo non c'è nel Daitime su Realtime? Che fine ha fatto biondo? Perché il rapper non viene più inquadrato nella fase pomeridiana del talent show? Qualcuno ha insinuato una probabile eliminazione ma niente di più falso, Simone Baldasserone fa ancora parte della scuola di Maria De Filippi. A farlo sapere lo stesso ragazzo in una storia di Instagram, dove ha svelato la verità della sua assenza, è stato male negli ultimi giorni, molto probabilmente una banale influenza, che ha costretto il ventenne ad allontanarsi dagli studi romani per riguardarsi. Ora però, come si evince dal profilo social, il giovane è guarito e pronto a riprendere le sue lezioni di canto. Le dichiarazioni di biondo su Instagram in merito alla sua assenza sto leggendo cose non vere su di me, non sono stato eliminato dal programma, stavo solo male. Per questo non ero presente nel Daitime di oggi ha spiegato su Instagram biondo, uno dei protagonisti di Amici 17. In un'altra storia ha aggiunto, non fatevi troppi viaggi, sono sempre sul pezzo, insomma, il messaggio di Simone è chiaro, non sarà facile sbarazzarsi di lui, e il cantante ha tutte le carte in tavola per accedere alla fase del serale del talent show. È ben visto dai professori e soprattutto dal pubblico, che continua a inserirlo tra i preferiti della settimana. Senza dimenticare che biondo ha subito instaurato un rapporto speciale con i tutor della trasmissione e in particolare con Annalisa Scarrone. Chi è biondo di Amici 17, età, carriera e vita privata biondo è un rapper romano conosciuto dal pubblico soprattutto grazie ai suoi video su YouTube. Il suo vero nome è Simone Baldassaroni, è tra i 20 anni ed è nato e cresciuto nella capitale. Amici non è la sua prima esperienza televisiva, in passato è stato intervistato su Rai 3 come protagonista della sigla di Brooklyn Man 4. Grazie a tutti. Grazie a tutti.